Il cordoglio perché è deceduto questa mattina un caporal maggiore, Fabio Comini, purtroppo in un addestramento, era un esperto paracadutista. C'è stato un incidente, non si è aperto il paracadute, sembra dalle prime risultanze, ora ovviamente ci sarà un'inchiesta, però ne approfitto per esprimere il cordoglio alla famiglia, alle forze armate che immagino condividiate.